Ma noi abbiamo questo qui in comune. Solo che al mio non restano altri 20 o 30 anni. Il mio doveva fermarsi 10.000 battiti fa. Non è possibile. Tu sei un'autorità in tutto ciò che non è possibile. Non è vero, Erin. Ti costringono a cercare anche i minimi difetti. E dopo un po' non vedi altro che quelli. Per quello che può valere, io sono qui a dirti che tutto è possibile. Tutto è possibile.